salve ragazzi continuiamo il tutorial della delta allora dobbiamo dobbiamo continuare a squadrare questo punto qui facciamo i punti muoviamo seguiamo la riga ora ora selezioniamo gli split edge le selezioniamo andiamo a controllare ok c'è un po' di casino ok allora allora selezioniamo WolfCart un video e a vedere e a vedere ok 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 conviene procede in altra maniera ok vediamo se riusciamo a tornare indietro ok ok vediamo se lo sciamo allora prima di tutto così togliamo questi edge qua se non ci servono allora selezioniamo dopo clic si selezionano tutti delete andiamo a togliere i relativi vertici ok ora attenzioniamo le facce ora studiamo moviamo selezioniamo solo queste facce ok 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 così poi poi segnaliamo i vertici e ricordiamo ok 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 per questo tutorial è tutto ci vediamo al prossimo ok 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 ok